Il ristorante Pizzeria Dolly si trova in via della Rinascita a Sant'Antioco. La pizzeria è con forno a legna a vista e il ristorante, da anni punto di riferimento per la clientela locale e per i turisti, prepara tutte le specialità sarde più conosciute e apprezzate. Sono oltre 100 i tipi di pizza proposti che garantiscono al cliente un'ampia scelta. Tra i piatti forti segnaliamo la carne, tutta carne locale e la cucina di mare anche questa con prodotti locali selezionati. È disponibile inoltre un'ampia selezione di vini esclusivamente made in Sardegna. I pasti possono essere consumati nella sala interna o nell'esclusivo garden esterno aperto solo nel periodo estivo. In alternativa è attivo il servizio da asporto. Grazie a tutti.